Mister, intanto complimenti per la vittoria, abbiamo detto una partita sporca, è stata effettivamente sporca, benissimo i primi 15 minuti, poi un po' di rallentamento generale, insomma poi alla fine è andata bene. Sì, assolutamente sono d'accordo, è iniziata benissimo, non bene ma molto molto bravi a tenere la palla, a muoverla, a creare occasioni, però non siamo stati bravi a indirizzarla da subito la partita, poi è diventata complicata perché poi il Cosenza ha incominciato a prendere campo, a crederci, anche se poi nel primo tempo non credo abbia mai calciato in porta. Secondo tempo invece difficoltà, anche lì ci siamo arrivati in maniera meno fluida e con meno qualità e poi c'è stato questo finale un po' roccambolesco, però sono contento per la squadra che ci ha creduto fino in fondo e quindi complimenti ai ragazzi. Si vince anche così, non sempre si può vincere 4-0 dominando la partita dal primo novantesimo. Mister buonasera, complimenti, volevo chiederti a fine primo tempo i due cambi sono dovuti immagino al fatto che non fosse soddisfatto di qualcosa in particolare, volevo chiederle che cosa ha richiesto i suoi e perché questi due cambi. Io volevo che la palla magari davanti la potessimo gestire in maniera diversa, poi chiaramente con gli esterni negli ultimi metri la capacità dell'uno contro uno, quindi magari con Zanimacchia e con Sernicola potevamo essere più incisivi, un cambio dettato in questo senso. Giorgio Barbieri Ecco una partita giocata agonisticamente molto tirata nei due tempi, soprattutto nel secondo, nel secondo a un certo punto il centrocampo nostro c'era meno gente insomma, quindi ha dovuto faticare di più anche i laterali. Sì perché poi diciamo che Occherecchi e Cia Giù giocavano piatti invece di giocare in verticale, quindi ci è mancato un po' la superiorità numerica che delle volte quando gioca a basket sotto a coda ci dà nel palleggio, quindi è un'opportunità in più nel far girare a vuoto il centrocampo avversario. Però al di là di questo è la gestione della palla che deve essere fatta diversa, secondo me noi un po' meno brillanti rispetto al solito. Però siamo sempre stati in partita al di là delle situazioni un po' sporche che si sono create da parte del Cosenza, credo che nelle occasioni, nelle opportunità che abbiamo creato la partita doveva essere indirizzata in questo modo. Vorrei sottolineare le due parate di Jungdal perché siccome magari appena un portiere fa un mezzo errore subito si parla di società che magari cerca un portiere direi che ha fatto un. Soprattutto su quella su Zuccon vorrei sottolinearla e poi vorrei chiederti se sei d'accordo che nella seconda parte del primo tempo la squadra ha abbassato troppo il ritmo e quindi ha permesso al Cosenza di prendere un po' più coraggio. Un po' quello che era successo a Piacenza, non so se questa lettura magari la trovi concorre. Penso di sì, io penso nella metà del primo tempo dove noi dopo il primo quarto d'ora 20 minuti che abbiamo fatto in maniera eccellente andando in verticale facendo correre a vuoto il Cosenza abbiamo rallentato, abbiamo rallentato nella pressione, sbagliavamo a fare la pressione con gli attaccanti, con Castagnetti, abbiamo arretrato troppo e poi quando potevamo ripartire ci mancavano poi i metri per farlo con più facilità, con meno fisicità ma con più qualità. Dicevo prima, a noi sono mancati negli ultimi metri l'individualità dell'uno contro uno nell'incidere, a noi ci manca questo perché comunque arriviamo, arriviamo bene ma ci manca l'ultimo colpo dove devi chiudere la partita, dove devi chiudere l'azione e quindi bisogna, ieri parlavo che ci vuole qualcosa in più, è questo che ci manca, è questo. Complimenti mister per la vittoria, volevo tornare sul cambio di coda proprio per quello che manca sull'incisività di davanti, la interpretiamo come una bocciatura in un periodo complicato o come una carta in più azzaggio dopo Roma? No, no, scherziamo, scherziamo, c'è giù, è una risorsa e quindi lo facciamo crescere e quindi Massimo guai a chi ce lo tocca, quindi deve continuare a lavorare, oggi è andata così e quindi non ci sono problemi di alcun genere. Anche perché poi Massimo come è stato per Franco, quindi mi riferisco a Vasquez all'inizio, qualcuno di voi diceva rallenta il gioco, tiene troppo la palla, io invece dicevo che mancava la squadra a Vasquez. Allo stesso momento, allo stesso modo dico che a coda manca la squadra, coda ha bisogno della squadra che arriva sul fondo, ha bisogno della squadra che va ad attaccare la porta, poi lui deve soltanto fare una cosa che è una bellissima cosa, che lo sappiamo tutti, lo sa fare meglio di tutti e quindi dobbiamo metterci al servizio di Massimo. Buonasera mister, Antonio Palopoli Media Sud, lei aveva tessuto le lodi in conferenza stampa di Caserta, aveva parlato di un Cosenza che se fosse in altra posizione di classifica non si sarebbe meravigliato, mi spiega anche il cambio, c'è coda per Taggiù, soprattutto essere Nicola da sinistra a destra, questo vuol dire che il Cosenza era riuscito un po' a imbrigliare le sue idee dopo una buona partenza. Mi dà un giudizio sul Cosenza, grazie mister. Cosenza ha dimostrato oggi comunque di essere un avversario ostico, capacità e poi oltretutto al di là delle idee dell'allenatore ha giocatori forti, quindi giocatori importanti che ti mettono in difficoltà, ti mettono in difficoltà nell'uno contro uno e quindi rischi se non sei compatto, se non sei forte nei duelli di correre a vuoto. Per quanto riguarda la sostituzione di coda, ripeto quello che ho appena detto, ci mancava che qualcuno tenesse la palla lì e Taggiù in questo senso era e poteva farlo magari in maniera diversa. Zanimacchia perché? Perché Zanimacchia ha sempre fatto il quinto con noi, quindi il laterale. Ghiglione non riusciva a incidere negli ultimi metri, quindi ho riportato la squadra a quello che di solito fa con uomini diversi, quindi delle volte si cambiano le caratteristiche si riesce a fare qualcosa in più. Chiudiamo con Guarnaccia, grazie. Mister, buonasera, complimenti per la vittoria. Nota positiva questa sera oltre alla vittoria e anche il clean sheet. La difesa è tornata a non subire gol, in particolare una nota speciale secondo me per Ravanelli che in due occasioni ha salvato il risultato. Le chiedo un po' qual è la valutazione che si è fatto sul reparto difensivo. Grazie. Bene, abbastanza bene. Diciamo un po' Bianchetti sotto tono ma arrivava da due settimane in difficoltà, ha avuto una bronchite forte, ha saltato allenamenti, quindi era normale che fisicamente facesse una prestazione del genere. Fa piacere non subire gol. Mi dispiace soltanto che c'è stato un po' di confusione alla fine e quindi magari il palo, la traversa, quello che è successo, non so se doveva essere fuori gioco prima, se l'ha fischiato dopo. Ok, quindi diciamo che non esiste questo e quindi bravo il portiere, bravo Andreas a fare quella parata, è lì per questo e quindi andiamo avanti. Grazie. Beh, Anto, è più una sorpresa. Grazie.